Albe, vanno a fare no? Stai a farlo Si me? Si Quando fare foto? Un zoomare a mal trafuzzo il marco no no, sento il marco ok io ho messo il minimo del marco un po' prima del marco eh, tutto bene eh, ok e in parte ma prima ah si ma prima ma prima ma prima ho fatto un video e poi è stato molto bello ok 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 ok